cosa si tratta, che cosa è accaduto, che cosa succederà in futuro. Lo facciamo con il professor Giovanni Vignami, professore di astronomia e astrofisica all'Università di Pavia. Professore, buongiorno. Ecco, volevamo chiederle a questo punto davvero che cosa cambierà nello studio del cosmo. Ecco, innanzitutto vorrei dire che non sono Giovanni Vignami perché Giovanni Vignami è deceduto alcuni mesi or sono ed era professore di astronomia. Io sono Luigi Vignami, un giornalista scientifico. Al di là di questo...